In collaborazione con sportoutdoorviaggi.it Marco, Hosis Technology Cari amici, benvenuti al consueto appuntamento con sportoutdoor.tv la multipiattaforma tv web dedicata allo sport e al turismo in questa puntata parliamo di moto d'acqua terza prova del campionato italiano moto d'acqua quinto trofeo città di Rimini organizzato dal club nautico Rimini in collaborazione con H2O Racing Team e Jet Riders Marina di Rimini Runabout F4 seconda mancia andiamo a vedere gli iscritti con il numero 2 Davide Pontecorvo con il numero 5 Michele Cadei con numero 21 Paolo Paesani con numero 22 Nanni Walter con numero 36 Sandro Forte con numero 70 Roberto Mariani numero 98 per Antonio Pontecorvo sullo sullo Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. numero 81. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.